Ecco che mancano 4 minuti, sono 50 giocatori a questo main event sui 167 partiti. Andiamo a vedere un po' i tavoli rimasti in gioco. Tavolo numero 1. Ci spostiamo ora al tavolo numero 2. Tavolo numero 2. Tavolo numero 3. Tavolo numero 3. Tavolo numero 4. E agli ultimi due tavoli ancora in gioco. Tavolo numero 7. E l'ultimo tavolo in gioco, che è il tavolo numero 9. E agli ultimi due tavolo in gioco. 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 E agli ultimi due tavolo in gioco.